Ho fatto il tempo a lavorare praticamente due settimane, poi l'incidente è stato l'11 ottobre L'attitubanza, soprattutto all'inizio, era probabilmente molta più la mia, in realtà poi continuando a lavorare, lavorando il proprio rapporto medico-paziente, concentrando più sull'intervento in sé Si è trattato di capire o provare a capire, e alcune cose le sto capendo ancora adesso, quale poteva essere la nuova normalità Praticamente la carrozzina, quella che utilizzo, lì la uso solo e esclusivamente in sala operatoria e viene trattata allo stesso modo di uno dei macchinari che sono presenti all'interno della sala operatoria Quindi quel tipo di trattamenti per discorsi in sterilità probabilmente arriverà prima alla tecnologia della medicina No, 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 mi fai vedere così